Fratelli e sorelle bianconeri, come avrebbe detto il beccamorto, è stata una sudata, sicuramente una sudata, non è stata una passeggiata, colpa secondo me, secondo il mio modesto marele di un centrocampo che continua a essere insulso, non so più trovare aggettivi per questo centrocampo dove Rabiot, magari nella sua giornata più eccellente, può essere da sei meno meno, lo vedo così, nella sua giornata di esplosione lo vedrei sempre da sei meno meno, questo è il mio giudizio su Rabiot, Matuidi non ne parliamo, l'altra mezzala non ne parliamo sto Matuidi, non si può fare una ripartenza e non possiamo chiudere una partita perché ogni volta che arriva la palla in ripartenza a Matuidi, per addomesticarsi quella palla passa mezz'ora e automaticamente perdiamo sempre occasioni i piedi sono quelli che sono, non so se sia vera questa cosa di cui si sta parlando, di questo ipotetico scambio secondo i giornali, tra Bernardeschi e Rakitic pesando l'età dei due giocatori Bernardeschi 26, Rakitic va per i 32 uno direbbe, ma che stiamo facendo? poi ci pensa bene, con un po' di razionalità faremmo un grande affare, sì, Bernardeschi non ci serve quasi a niente mentre Rakitic, magari, quantomeno, anche se non ha fatto le ultime due stagioni alla grande al Barcellona, però è sempre un giocatore di livello internazionale e lo vedo sempre superiore, sia a Rabiot, sia a Matuidi anche a Ramsey, dove è finito quel Ramsey che adoravo, quel giocatore che adoravo che sia nel Galles, che nell'Arsenal, tirava e segnava da tutte le posizioni non si cerca mai il tiro, è un po' macchinoso non lo so, st'inattività lo ha un pochino arrugginito non lo so, sicuramente è sempre il solito problema questo centrocampo, perché io vedo potenzialmente là davanti siamo devastanti anche se, ripeto, e lo ripeto più di una volta bisogna far giocare di più Iguain ma non per sminuire Dybala o altri perché Iguain riempie l'area di rigore ci manca un giocatore che riempie l'area di rigore il primo tempo, non l'abbiamo quasi mai fatto a Ronaldo piace giocare un po' dappertutto a Dybala idem manca quel giocatore che riempie l'area di rigore fa la sponda, non solo conclude, ma fa la sponda in assenza di Iguain avrebbero dovuto fare i centrocampisti ma non ne parliamo di questo centrocampo e allora alla fine Sarri con molto coraggio anche in vantaggio di 2-1 ha detto, ma sì, ma sì, dai, mettiamo il tridente ma sì, dai, tridente è stato con Iguain poi levando Dybala sempre con Douglas Costa sempre tridente, anche se abbiamo creato poco ma quantomeno, invece di ritrarsi troppo dietro ha detto, ma sì, dai, tanto, perso è perso andiamo avanti, è inutile giocare a roba a sto punto con un centrocampo così è inutile, rischiamo e vaffanculo ma dai, non è possibile ragazzi, non lo so, noi per storia per storia, per ideologia, per storia la Juventus non fa quasi mai niente a gennaio ma io penso sia veramente arrivato il momento di fare qualcosa a gennaio in quel settore del campo dove latitiamo veramente non possiamo arrivare così a fine campionato quello che c'è di buono oggi sono i 4 punti di vantaggio questo sì prendiamo di buono quello che c'è prendiamoci di buono i 4 punti andiamo a Napoli, sì in una trasferta ora dove non pensate che il Napoli sia tanto remissivo è il Napoli che ha perso 100 partite di fila ora con un gattuso ma non deve non deve non deve non dobbiamo pensare che sia facile perché conosco l'ambiente conosco conosco come caricheranno a palla l'ambiente contro Sarri e Higuain figuratevi ci sarà il solito ambiente di guerriglia a maggior ragione i tifosi dopo tutte queste prestazioni chiederanno al Napoli la prestazione perciò non sarà facile secondo me il Napoli come un po' fanno tutte le squadre il Napoli farà la grande prestazione con la Juve come lo fanno tutti come lo fa il Parma come lo fa la Fiorentina tutti fanno la grande prestazione contro la Juve a livello di intensità la fanno tutti questo l'abbiamo capito perciò stiamo molto attenti stiamo attenti anche mercoledì in Coppa Italia perché giocando così si va fuori anche con la Roma questo è poco ma sicuro non mi è piaciuto di bello l'arbitro troppo fiscale troppe volte ha rotto il cazzo a Ronaldo in tutti gli interventi che ha subito in troppi falletti fischiati contro mi ha dato veramente fastidio mentre ciò che mi è piaciuto nella mediocrità di oggi c'è una cosa che mi è piaciuta mi era già piaciuta con l'Udinese e con la Roma delict 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 a centrodestra quando entrò la prima volta sostituendo l'infortunato De Miral contro la Roma vedi delict a centrodestra e disse che sta succedendo Bonucci a centrosinistra il suo ruolo naturale sì delict comincia a impostare sul suo piede di riferimento chi ha giocato a calcio lo sa imposta sul suo piede non gioca da da centrosinistra sul destro gioca impostando nel suo ruolo che fu all'Ajax e le partite di delict sono state eccezionali oggi ha fatto due interventi peraltro in recupero meravigliosi quanto mi piace delict sul centrodestra ne va a discapito di Bonucci che sul destro sul centrosinistra si trova un po' male a impostare si vede che è un pochino macchinoso però delict sul centrodestra è stato restituito al suo ruolo naturale è stato messo gioco forza inizio campionato con quell'infortunio del Chiello è stato messo lì quasi contro forza a fare lo stopper tra virgolette come si diceva una volta la Juventus era stata pensata per fare giocare delict a centrodestra e Chiellini a centrosinistra e in futuro Demiral quando Chiellini si fosse ritirato questo era il progetto è stato messo gioco forza lì delict per sostituire Chiellini perché non si fidavano magari di Demirallo subito messo lì a fare tra virgolette lo stopper come si usava dire una volta e invece no delict deve stare lì a impostare a ribaltare l'azione quando la squadra esce con delict con due tocchi si esce si esce palla si va in uscita palla rapida senza il solito lancione che faceva Bonucci e poi le sue doti fisiche in recupero si fanno valere insomma acquista fiducia questo giocatore entusiasmo fiducia mi piace mi piace il mio sogno sarebbe sempre vedere delict a centrodestra e Chiellini a centrosinistra magari ristabilitosi dall'infortunio non so se succederà vediamo in futuro sicuramente delict Demiral sarà la coppia della Juve la coppia centrale della Juve speriamo per i prossimi dieci anni comunque bravo questo ragazzo mi piace mi piace mi piace e sono contento di averlo difeso a dispetto di tante merdacce che buttavano del tavolo fango e merda su questo ragazzo mi fa piacere averlo difeso i fatti piano piano mi daranno ragione come quasi sempre succede come quasi sempre succede ragazzi diamo fiducia delicto dobbiamo migliorare dobbiamo migliorare sul punto di vista del gioco ma non della gestione della ripartenza del gioco di prima su tante cose dobbiamo migliorare ma non lo potremo mai fare se il centrocampo rimarrà questo con Rabiot in Maduidi vi assicuro che non c'è speranza possiamo vincere al limite in Italia e neanche forse dobbiamo prendere almeno un elemento di spessore internazionale capito paradici mi raccomando ragazzi fino alla fine forza Juve più 4 pugliese più 4